bella a tutti ragazzi del vostro shop 79 continuiamo con le sponsorizzazioni altri 10 canali io mantengo sempre le mie promesse ve l'avevo promesso che io anche se ho fatto la notte ho fatto un turno di 11 ore e mezza calcolate sono stanchissimo non ce la faccio più ma faccio il video come vi ho promesso perché io ci tengo che voi siate sponsorizzati così come vi ho promesso in base alle date per stabilire dopo vi rifaccio della lista a fine video ok cominciamo beh questo è il mio canale special 200 iscritti lo conosce da memoria cominciamo con il canale di drone 21 questo è un canale abbastanza cagliardo informazioni 24 iscritti 342 visualizzazioni vediamo dei video questi sono i suoi video adesso su questo video vi fa vedere come va a tornare la gente sul call of duty ok quindi ragazzi mi raccomando ricordatevi drone 21 iscrivetevi tutti quanti ok prossimo canale varix gaming questo è un altro canale figo sono due ragazzi bravissimi vi faccio le informazioni 33 schizzi 163 visualizzazioni video allora guardate questo video facciamo il punto questo è il video che vi consiglio di guardare io ho già messo mi piace sono due pazzi vedete sono due pazzi quindi chi è che non è pazzo che fa queste cose siamo tutti pazzi quindi fanno parte di noi mi raccomando iscrivetevi al loro canale ok loro fanno i gameplay con fifa con far cry 4 assassin creed e mettete mi piace ai loro video però seguite ragazzi non è che vi iscrivete così tanto per fan favore iscrivetevi ai canali che vi piacciono e dopo a meno seguiteli attiva delle notifiche dei video come faccio io che vi seguo tutti quanti siete 60 canali e io vi seguo tutti ok adesso prossimo canale mark 0687 questo è un canale bellissimo lui fa evito questi credo questi credo che siano video fatti con il tablet o col telefonino comunque sia perché sono giochi del tablet e detto prima vedere lui frappa benissimo questo video è bellissimo vedete io già ho messo mi piace lui c'ha informazioni senza stati iscritti e 1140 visualizzazioni quindi ragazzi mi raccomando iscrivetevi anche a mark 0687 prossimo canale god v kill questo è un canale fighissimo vi faccio vedere video vediamo un video su uno qualsiasi questo è lui vedete vediamo date match a squadra gta 5 questo è una partita di gta 5 date match a squadra video bellissimo già l'ho guardato e ho messo mi piace io io ragazzi sono l'unico che prima che vi sponsorizza viene su vostri canale a guardare i video non li posso vedere tutti cioè rendetevi conto ma guardo quelli che mi interessano in base all'alteprima e mi rendo conto di che persone siete come fa dei video delle intro ok prossimo canale questo si chiama x your max o x your max non lo so come pronunciarlo che è difficile già avete dei nomi assurdi su su certi canali informazioni questo c'ha 21 iscritti e 381 visualizzazioni video i suoi video eccoli vedete è un ragazzo abbastanza intrependente è bravo a fai video solo che tiene il volume del microfono troppo basso a volte non si sente ecco io ho messo pure mi piace vedete quindi mi raccomando iscrivetevi ricordatevi x your max poi questo è un canale bellissimo iron 795 questo è un professionista ragazzi questo è bravo questo fai video di alien isolation e slenderman è veramente bravo ragazzi mi raccomando iscrivetevi questo io ancora non l'avevo visto di video quindi mettete mi piace come ho fatto io vedete l'informazione canale lui c'ha 214 iscritti e 494 visualizzazioni poi c'è questo qui questo è un pazzo come me io pensavo di essere brutto ma tra me lui c'è una bella cara non ti offendere ciao raga io scherzo sai allora vediamo il suo canale informazioni lui c'ha 81 iscritti 511 visualizzazioni di suoi video questi sono i suoi video opening pack lui praticamente si è comprato il microfono infame quello che ci hanno tutti quanti lo vedete lui c'ha la faccia da psicopatico come me si è comprato il microfono eccolo vanno avanti c'ho 30 canali aperti scusate quindi ci vuole un po' per far baffini quello bello come ce l'hanno fai vj piv dai pai no pure io lo voglio il microfono così me lo comprerò anche io questo microfono e bravo ciao raga perché mi ha dato una bella idea quindi ciao raga lo sai che ti seguo quindi ragazzi iscrivetevi al canale di ciao raga mi raccomando ok prossimo canale the white lies si pronuncia the white lies perché io avevo detto the white lies su un video vecchio sono stato corretto quindi the white lies ok questo è il suo canale informazioni lui fa video di minecraft tra quali 10 iscritti 100 iscritti 150 tocca vederlo vedete adesso vi faccio vedere i suoi video lui fa dei video bellissimi cioè ecco vedete voglio già già che mi fanno la intro fatta bene così per me già sono 10 punti in più c'è una novità anche io mi sto facendo fare la intro lo sapete sono pazzo non ho abbattato né a spese e né a fantasia sto aspettando che me che me la fanno ci vorranno 3 4 settimane calcolate vede è un ragazzino è bravissimo fate video che sono della qualità eccezionale quindi vi raccomando iscrivetevi mettete mi piace io questo già ho messo mi piace ok adesso questo qui poi universo e j questo non c'entra un cazzo questo canale con il gaming ok questa è una coppia gay mi ha chiesto di essere sponsorizzata sono due bravissimi ragazzi insomma c'hanno anche una certa da io penso sono tantissimo tanto giovanissimi quindi io ho tantissimi colleghi amici gay quindi non c'è nessun problema a sponsorizzarli guardate io aspetta dei video loro guardate questo qui quello del cane celebrano il primo compleanno del piccolo kevin loro hanno un cane bellissimo che si chiama kevin troppo bello questo è il loro video loro fanno i video da paura è la qualità che è un po bassa sembrano fatti con l'iphone mettete mi piace come ho fatto i ragazzi seguiteli questa è una coppia gay che danno tantissimi consigli importanti ok per tutti quanti mi raccomando se qualcuno fa qualche commento stronzo sotto sui gay io lo banno a vita da youtube lo faccio caccia proprio da internet e blocco proprio l'ip dal computer quindi mi raccomando regolatevi perché sono bravissimi seguiteli mettete mi piace iscrivetevi al loro canale mi raccomando prossimo canale questo è minex o main x tv ok questo interesa è mai se sa ormai cioè di tutti sto pizzo che al posto della e mettete il 3 minex tv informazioni 56 iscritti 218 visualizzazioni questo è un canale bellissimo veramente c'ha quattro video ma sono quattro video uno mi aiuta un altro perché lui che fa fa tutorial praticamente come impostare le minature personalizzate come scaricare la musica da youtube senza programmi il miglior sito streaming 2015 ecco ad esempio faccio vedere guarda c'è solo una intro così dove dovete scrivere basta c'è c'è poco da fa ok vedete lui è minex tv è bravissimo è sciolto e i video suoi sono molto utili quindi ricordatevi di iscrivervi al suo canale mi raccomando ragazzi allora adesso ok allora adesso torniamo a noi domani esce il video dei top 5 canali del mese di gennaio io mi sono divertito sto mese piano piano a vedere tutti i vostri canali posti video avete visto io parteci ve lascio i commenti a quelli che posso mano a mano me ne scordo qualcuno quelli che mi ricordo metto attiva notifica di dei nuovi video tutte queste cose così allora domani esce la top 5 quindi mi raccomando ragazzi questi sono tutti quelli che ho sponsorizzato fino adesso sono 39 canali tutti i canali già sponsorizzati questi sono tutti quelli che partecipano eccoli qui a sinistra tutti quelli che partecipano eccoli qui per domani poi questi sono le prossime liste poi martedì 3 febbraio ricominciamo con le sponsorizzazioni di febbraio quelli che verranno sponsorizzati a febbraio parteciperanno al top 5 di febbraio e il quale ovviamente non saranno in custo quelli della top 5 di gennaio mi raccomando quindi poi ragazzi controllate bene ve lo rimetto mettete pausa e leggete se c'è state se non c'è state rimandatemi un messaggio dovete avere pazienza ma proprio siete tantissimi cioè ok ragazzi lo sapete io vi voglio bene vi saluto con un bacione mi raccomando seguitemi mettete mi piace iscrivetevi alla pagina facebook e al canale youtube buona giornata a tutti e buon weekend ci vediamo domani con la top 5 di gennaio wow non vedo l'ora faccio un super video bella ciao 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 Grazie a tutti